Gentili amici di Ermanno e Andy Channel, siamo qui al cimitero ebraico di Praga. Vedete che venivano seppelliti più cittadini ebrei uno in fianco all'altro, perché queste tombe venivano messe così. Ecco, questo è il famoso cimitero di Praga, narrato anche in un celeberrimo romanzo di Umberto Eco, il cimitero di Praga.